Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri. In questa edizione di Occhio alla notizia. Gli assembramenti nel fine settimana a Fano. Il sindaco Seri annuncia un aumento dei controlli. L'ex presidente della regione Ceriscioli ha contratto il virus a casa dei genitori. Nessuno è in pericolo. Brusco calo delle temperature e possibilità di nevicate anche a bassa quota. Lo dicono gli esperti del meteo. Nel lungomare di Fano si rifà il look. Nuovo parco giochi e dopo decenni di abbandono anche una nuova rosa dei venti. Tra poco una nuova puntata dei dolci del carnevale. E a seguire in diretta primo cittadino con il sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani. Cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. Benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale che apriamo con gli assembramenti dell'ultimo fine settimana. Nella settimana ci sono state multe elevate anche per la violazione delle norme anticontagio. A lanciare un appello rivolto in particolare ai giovani, il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha annunciato un aumento dei controlli. Il servizio è di Simona Zonghetti. Primo fine settimana in zona gialla per le Marche, ma un allentamento delle misure ha portato centinaia di persone a riversarsi, in particolare in centro storico e sul lungomare, per passeggiate e aperitivi. Diversi però sono stati messaggi arrivati alla nostra redazione per segnalarci numerosi assembramenti, come in Corso Matteotti o in Via dei Borgoggelli a Fano. Probabilmente, ci ha scritto il residente, sarà necessario inviare un esposto in prefettura, perché più volte abbiamo allertato le forze dell'ordine in vano. Segnalazioni arrivate anche da Pesaro e da Sant'Anna di Cartoceto. Questa invece è Via Ugolino di Pili, sempre a Fano. Sia sabato che domenica, polizia, vigili urbani e carabinieri hanno eseguito controlli serrati ed elevato sanzioni a chi si è spostato senza un valido motivo e a chi non indossava la mascherina, soprattutto i giovani. Infatti, il ritorno in zona gialla è stata per tanti l'occasione di tornare alla normalità, ma il rischio è che si vanifichino tutti gli sforzi fatti con sacrifici sino ad oggi. Un appello al rispetto delle norme anticontagio arriva anche dal sindaco Massimo Seri. Devo richiamare ancora una volta l'attenzione sui comportamenti responsabili che ognuno di noi deve avere. È giusto che i ragazzi escano, devono fare vita sociale e siamo tutti d'accordo, però facciamolo con responsabilità. Quello che mi fa più arrabbiare è che ancora ci sono troppi che girano senza mascherina o perreno con la mascherina sotto il mento. La mascherina sotto il mento non serve assolutamente a nulla. Le cose stanno andando meglio, i vaccini iniziano ad aumentare, quindi andiamo verso una situazione migliore. Non vanifichiamo questi sforzi e questo percorso, perché poi è un peccato per tutti. Allora rivolgo un appello, in particolare ai più giovani, di indossare la mascherina e di evitare sembramente tutti nello stesso posto. È possibile evitare tutto questo. Avverto anche che aumenterò i controlli e quindi chi sarà, chi girerà in gruppo senza mascherina o sotto il mento verrà anche sanzionato. Perché io non sono per usare questi strumenti, perché dobbiamo essere tutti maturi e responsabili. Però quando si persevra poi bisogna cambiare anche atteggiamento. Quindi veramente di cuore usciamo, facciamo le cose che possiamo fare, ma facciamolo con senso di responsabilità. Si aggrava di otto vittime il bilancio dei deceduti con Covid-19 nelle ultime 24 ore nelle Marche. Invece i nuovi positivi sono 171, di cui 11 nella provincia pesarese. Un numero basso, come sempre nei giorni post-festivi, legato alla minore quantità di tamponi esaminati. Negli ospedali della Regione si registrano sette ricoveri in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 73 persone, mentre rimane invariato il numero dei degenti in semi-intensiva ad oggi 155. E tra i contagiati c'è anche Luca Ceriscioli, l'ex presidente della Regione Marche, che sconta la sua seconda quarantena. Sono stato infettato dai miei genitori, mio padre è stato ricoverato, ma non è in gravi condizioni. Letizia Marchionni. Una fastidiosa febbre e qualche dolore. Il Covid è entrato anche in casa di Luca Ceriscioli, l'ex presidente della Regione Marche, che giunge alla sua seconda quarantena. Ad aprile, infatti, aveva rischiato il contagio a seguito dell'incontro con Guido Bertolaso, che era poi risultato positivo, ed aveva quindi dovuto passare due settimane in isolamento. Infettato dai genitori, Ceriscioli ha ufficialmente contratto il Covid-19. La preoccupazione, ha spiegato l'ex presidente, è per mia madre, ma soprattutto per mio padre, soggetto a rischio in quanto ha un polmone che non lavora e che per questo motivo è stato ricoverato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Per me la notizia più importante è questa. Il mio padre è ricoverato, ma ha risposto molto bene alle terapie, quindi i medici sono molto soddisfatti, mia mamma senza sintomi e io con un po' di febbre, insomma, quindi sono nella catena dei contagiati. In questo momento forse sono quello che, tra virgolette, sta peggio, però una cosa importante appunto sono loro che sono più anziani e quindi soggetti più a rischio. Questa mattina, poi continuato Ceriscioli, professore all'Istituto Bramante e Genga di Pesaro, mi ha contattato l'Asur per chiedermi con quali classi ero stato e con quali modalità. Poi prenderanno provvedimenti, spero di non aver contagiato nessuno studente. Devo dire che negli ultimi giorni la scuola, secondo me, continua ad essere un luogo gestito bene da questo punto di vista. Mi è capitato di avere classi in aule molto molto grandi, ho dimezzato, alcune a distanza della rotazione. Sicuramente, sotto il profilo del rischio di contagio, le migliori condizioni, per tutti con la mascherina. Da professore, poi, Ceriscioli ha promosso l'operato dell'attuale giunta in materia di pandemia, ma non a pieni voti. Resta un tasto dolente per l'ex presidente della regione e il blocco dell'investimento da 200 milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro-Fano. Sono in termini di lavoro, di occupazione, di attività, ma per tutto il sistema economico. enorme, noi non siamo mai abituati, non conosciamo un investimento di 200 milioni, non è stato fatto negli ultimi 50 anni. Quindi è veramente un'opportunità che, pensato per tante famiglie, dispiace. Andare a monte a quel progetto, secondo me, oltre all'aspetto legato alla salute, che non è certamente secondario, potrebbe avere una struttura di qualità come servizio, ma anche per il momento. Pensare di rinviare un investimento così importante, mi tengo sia la cosa più sbagliata. Spero sempre che si ravvedano. Sul resto, visto che hanno utilizzato tanto il lavoro fatto prima, e questo francamente mi ha fatto piacere, penso all'utilizzo dell'ospedale Covid di Civitanova, che ha sempre operato durante questa seconda fase pandemica, come era prevedibile. Quindi devo dire che c'è stato un buon senso di utilizzare al meglio tutto il lavoro che era stato fatto nei mesi difficili da prima ondata della pandemia. Hanno fatto bene, ecco, un po' di continuità anche sull'ospedale di Pesaro e li possiamo rumore. La variante inglese del Covid-19 è sicuramente più contagiosa, ma non più patogena, lo dice all'Ansa il virologo, direttore del laboratorio di virologia dell'Azienda Ospedale Uniti di Ancona, Stefano Menzo, dopo la scoperta di alcuni casi nelle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. Che sia più contagiosa, lo abbiamo già visto, spiega dal primo caso, a Loreto, poco prima di Natale, si è diffusa rapidamente in provincia di Ancona e in città. È presente in circa metà dei tamponi processati nell'Anconetano. Che non abbia una maggiore carica patogena, lo hanno detto anche i colleghi inglesi, che studiano questa variante da prima di noi. Nelle Marche invece al momento non risultano presenti altre varianti, come quella brasiliana o la sudafricana. E adesso invece cambiamo argomento e parliamo di previsione del tempo, parliamo di meteo perché da venerdì assisteremo ad un calo, un calo decisamente marcato delle temperature. E quando calano le temperature c'è anche la possibilità che arrivi la neve anche a bassa quota. Ma per capirne un po' di più, questa sera ci colleghiamo con il nostro esperto, Francesco Cangiotti, che saluto ed è collegato con noi, al quale rivolgo subito una domanda secca. Allora, questa volta sarà la volta buona per lo meno per la costa, perché la montagna ha già visto tanta neve. Sì, sicuramente avremo molte probabilità di avere una prima imbiancata di stagione anche sui settori costieri. Infatti dopo questo assaggio di primavera che abbiamo avuto in questi giorni, a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, le temperature caleranno bruscamente, questo per l'arrivo di un nucleo di aria gelida dalla Russia e dai Balcani, che si farà sentire ancora di più poi nei giorni successivi. Quindi in particolare nella giornata di venerdì, di sabato e di domenica, le temperature risulteranno anche di 10-12 gradi al di sotto della media. Infatti avremo in quota delle esoterme attorno ai meno 12-13 gradi, quindi dei valori decisamente molto gelidi. Quindi quest'aria fredda attiverà una serie di corpi nuvolosi di instabilità, con dei rovesci che, viste le basse temperature, saranno esclusivamente a carattere nevoso e appunto dal mare, dalle zone costiere, si muoveranno poi verso le aree collinari e verso l'Appennino. Quindi ad oggi i fenomeni non saranno particolarmente intensi, però anche le zone costiere pianeggianti potranno vedere soprattutto nella giornata di sabato qualche centimetro di accumulo. Beh, qualche centimetro di accumulo, Cangiotti, insomma, per le zone costiere non sono poche, ma di quali località, visto che la costa marchigiana è piuttosto lunga e vasta, di quali località possiamo parlare? Tutta la costa o soltanto in alcune aree? Beh, diciamo che ad oggi rimane ancora un po' difficile fare una previsione così localizzata, anche perché si tratterà, come dicevo, di non una perturbazione organizzata, ma comunque di fenomeni di instabilità che quindi colpiranno un po' diciamo macchia di leopardo qua e là i vari settori. Avremo modo comunque di riparlare nei prossimi giorni, comunque sicuramente i settori cento settentrionali della regione avranno maggiore probabilità, questo sicuramente. Allora ci diamo appuntamento in mezzo alla settimana, a metà settimana, per vedere se le previsioni saranno confermate, anche lo dico perché per chi segue le app, come facciamo noi abitualmente, insomma tutti quanti abbiamo delle app che seguiamo, spesso ritrattano e ci lasciano con un po' di delusione, invece questa volta, nonostante sabato sia ancora abbastanza lontano, vedo che c'è una certa fiducia da questo punto di vista. Ma diciamo che i modelli sono un po' tutti concordi, si sta andando verso questa direzione, logicamente come diceva lei ancora mancano diversi giorni, quindi sarà sicuramente bene aggiornarci attorno mercoledì, giovedì. E lo faremo, grazie Francesco Cangiotti di geometo.it. Adesso invece parliamo della regione Marche che mette a disposizione oltre 2 milioni e 900 mila euro per favorire la nascita di nuove imprese da parte di disoccupati, giovani e meno giovani. Lo annuncia l'assessore regionale al lavoro Stefano Guzzi. Si tratta di un sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per l'avvio dell'impresa e per la creazione di nuova occupazione. Le domande potranno essere presentate da giovedì 12 febbraio e la procedura rimarrà aperta fino al 2 agosto, salvo l'esaurimento delle risorse prima della data di scadenza. E la giunta regionale ha attivato l'iter per il contributo a favore di comuni e province destinato all'installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica finalizzati a ricambio d'aria ma anche di sanificazione. Con un primo finanziamento da 2 milioni di euro si andrà a migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti che ospitano gli studenti marchigiani. La regione, osserva Francesco Baldelli, assessore con delega all'edilizia scolastica, ha mantenuto la promessa fatta. Ora attendiamo il parere del CAL che dovrebbe arrivare in tre giorni e poi provvederemo alla pubblicazione del bando. E adesso ci spostiamo sul lungomare di Fano, dove sono già iniziati i lavori di ristrutturazione, restyling del corso, della passeggiata in alcune zone appunto del lungomare di Sassonia. In particolare non solo un'area dedicata ai giochi per bambini ma anche a quella che i fanesi conoscono bene, la Rosa dei Venti, la Rosa dei Venti che è lì in abbandono da moltissimi anni. Filippo Pucci. Meglio tardi che mai. Sono partiti questa mattina i primi interventi di riqualificazione dei luoghi più frequentati e ammalorati della città di Fano. Tra questi, occhi puntati sui parchi dei quartieri di Carrara e Tombaccia, mentre per la zona mare, nuove panchine in legno e in pietra lungo il molo tra il Lido e l'Arzilla. Per concludere poi con il lungomare di Sassonia, con un vero e proprio intervento di messa in sicurezza, ordine, pulizia e nuovi arredi. Costo complessivo dei quattro cantieri, 250 mila euro. In anteprima all'Uaterpon non potevamo fare un intervento sostanzioso di carattere economico perché saremo stati degli scellerati. Per cui parlo di messa in sicurezza perché andremo a riqualificare un po' tutte quelle che sono le parti ammalorate della passerella. Ci sarà una bonifica del calcestruzzo, quindi tutti i buchi, tutti quegli spazi che oggi naturalmente versano in una condizione non in sicurezza ma anche in decorosa verranno sistemate, così come la pista di pattinaggio ed anche il luogo dove oggi giace la barchetta che è la pista per giochi perché lì c'era proprio tutto l'antitrauma che si era scollato. Oltre questo andremo anche a fare un intervento di pulizia nella parte dell'anfitriato Rastat e non solo tutte quelle parti che sono state sporcate nel tempo e quindi verranno assolutamente ripulite. di arredo perché abbiamo fatto anche un acquisto di ulteriori panchine da mettere nella passeggiata e anche nelle aree verdi, quindi tavoli e altre panchine e faremo anche un intervento d'ordine inteso proprio per le bicicli per mettere in ordine tutte quelle che sono i cicli sparsi lungo la passerella e anche sotto il tendone. In attesa della partenza del progetto Waterfront che vedrà l'intero ammodernamento del lungomare fanese, il Comune gioca le carte d'anticipo per la prossima stagione estiva intervenendo anche in quei punti lasciati abbandonati da molti anni come la riqualificazione completa della Rosa dei Venti, elemento distintivo almeno per quando era in funzione, della passeggiata di Sassonia. Verrà riqualificata com'era, per cui gli verrà restituito quello che era la sua sembianza originale con il pennacchio e con l'indicazione di quello che sono poi i punti cardine del vento. Noi per l'estate dobbiamo essere pronti. Insomma, finalmente buone notizie per chi frequenta questi spazi grazie alle tante segnalazioni e all'impegno dell'amministrazione. Ora però vedremo quanto tutto questo durerà prima che i soliti vandali rovinino come sempre il bene comune. Mezzo milione di euro per le attività commerciali in difficoltà. Lo ha annunciato il sindaco di Pesero Matteo Ricci con l'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci e al bilancio Riccardo Pozzi nell'incontro di oggi pomeriggio con i rappresentanti delle associazioni di categoria. Vista la situazione di grande difficoltà, ha continuato Ricci, abbiamo deciso di fare un investimento straordinario di 500 mila euro, un'operazione unica in Italia. Sono soldi del comune, un aiuto concreto pensato per le imprese che hanno subito maggiormente le restrizioni del Covid-19. Si tratta di un contributo dal 40 al 50% sulla tassa dei rifiuti pagata nel 2020. Tutti i dettagli anche sul nostro sito internet occhialanotizia.it. E prima di chiudere il nostro telegiornale, apriamo l'album di Fano TV e lo facciamo questa sera per fare gli auguri a Leonardo Caimmi e Maria Antonietta Cappannari, residenti a Fano, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Tra i tanti che hanno fatto gli auguri a questa coppia, anche ovviamente i figli, Simone e Alessandro. E hanno festeggiato sempre ieri le nozze d'Avorio, 62 anni di matrimonio, Duilio Bartocetti e Assunta Subissati di terre roveresche. La coppia ha 5 figli, 11 nipoti e 2 pronipoti. Allora, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi un'altra puntata dei dolci del Carnevale e in diretta, subito dopo, su Fano TV, il sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, nel consueto appuntamento, primo cittadino. Noi ci rivediamo invece domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa, Occhi e Giornali. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS